Filippo Carobbio, come possiamo commentare questa sconfitta di venti giorni dove la squadra dopo aver subito la rete del pareggio nel primo tempo è sembrata quasi aver paura di andare alla ricerca della vittoria? Sì, questo atteggiamento ce l'abbiamo la domenica scorsa quando abbiamo giocato dopo il 2-1 con la Drense che ci ha fatto smettere di giocare. Anche oggi è uguale, al posto di darci una spinta positiva, l'episodio positivo che è il loro rigore sbagliato ci ha messo paura e abbiamo smesso di giocare. Ascusante, l'unica cosa è che il campo oggi era veramente pesante e giocare era veramente difficile, giocare come vogliamo noi. Però al di là di questo dovevamo fare meglio e avere più determinazione, più volontà, più voglia di portare a casa un risultato positivo. Nel secondo tempo è stato comunque equilibrato, deciso da un episodio, però loro hanno cercato di più l'episodio positivo mentre noi abbiamo un po' subito la situazione e siamo un po' accontentati quando invece non dovevamo farlo. Ci riverghe che, forse soprattutto nei vecchi, è sembrato che nelle piccole cose, ad esempio i falli laterali su cui l'arbitro era indecisa, mancava della giusta cattiveria nel andare a cercare il pallone, nel vincere il contrasto a centrocampo. Sì, è una cosa spiegabile, visto che i giocatori di una certa esperienza si fanno sopraffare da questi episodi senza metterci un po' di grinta, un po' di volontà, un po' di quella malizia sana che serve per giocare a calcio. Diciamo che tutto fa la differenza, anche questi dettagli minimi e come ho detto ai ragazzi tante volte, purtroppo in questo campionato è totalmente equilibrato che la differenza la fanno i dettagli e gli episodi. E noi non siamo ancora bravi a portarli dalla nostra parte ed è giusto che poi perdiamo in questo modo. Quindi l'unica cosa a fare adesso è ripartire, lavorare, visto che abbiamo una partita da qua a tre giorni e ricominciare. Ricominciare alzando la testa e pensando positivo perché altrimenti diventa difficile. Però lavorare molto probabilmente sulla testa dei ragazzi perché l'aspetto tattico, la squadra è preparata, forse in questo momento le sconfitte sono più figlie di un problema mentale. Sì, però io penso che quando il problema sia mentale uno si deve aggrappare alle conoscenze che ha, visto che noi lavoriamo tanto su questo, dovremmo un po' aggrapparci a quello che proviamo in settimana. Invece tante volte ce lo dimentichiamo e giochiamo un po' così senza pensare e questo ci penalizza, soprattutto in un momento dove mentalmente siamo molto deboli, molto deboli. Quindi l'unica cosa ti ripeto da fare è lavorare, lavorare sui concetti che proviamo sempre, sulle cose che facciamo e ripartire da lì. Visto che, ripeto, mercoledì abbiamo un'altra partita importante che non c'è niente di meglio dopo una sconfitta a poter giocare subito. Quindi avanti e testa mercoledì. Grazie.